Ciao, creatura. Io sono Ecati Splendenti e benvenuta o bentornata nel regno di Kusai. E-S-M-A. Questa sera farò dei trigger con il mio beauty e con gli oggetti che ci sono all'interno. Questo beauty mi è stato regalato dall'Apefana quest'anno. Avevo un altro beauty prima di questo, era tutto bianco, uno sponsor tipo di una medicina. Invece adesso c'era bello nero di finta pelle. Non è né troppo grande né troppo piccolo, l'altro era troppo grande, decisamente gigante. E' un misto tra cosa c'è nel mio beauty e... Facciamo dei trigger con degli oggetti. E' anche un show and tell. Spero che questo video ti faccia rilassare. Metti un like per il supportarmi. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina. E lasciami anche un commentino se vuoi altri video così. All'interno ho questo spazzo di legno che avevo acquistato Grezza e ho decorato io tanto tempo fa. con un pennello fatto verde, pastello e ho decorato con un pennarello nero indelebile. E poi ci ho messo un protettivo sopra perché non si rovini. è un mini spazzolo da borsetta, praticamente. E' un mini spazzolo da borsetta, praticamente. Che Grazie a tutti Non fa un bel suono come quelle di plastica però è comoda perché è piccina Un pacchetto di fastoletti di Halloween Che avevo acquistato a Lidl siccome non si comprava nessuno Le ho presi dopo Halloween e c'erano ancora Quindi le avevo comprate poi ne avevo comprate Io metto un pacchetto C'erano confezioni Infatti così E all'interno Sono ogni fastoletto decorato in modo diverso A Tema Halloween ci sono i pipistrelli Poi ci sono le zucchette I fantasmini Insomma sono tutti diversi Poi ci sono i pipistrelli Super concentrato Questo è il profumo che sto utilizzando attualmente Che è dei tesori d'oriente Ed è Si chiama Forest Ritual Profumo aromatico Il gusto La fragranza Mi da dire il gusto Ma in realtà non è il gusto Perché non è una pizza Un gelato Comunque la fragranza è Ninfea Bianca E legno Di Inocchi Non so se si pronuncia così Ed è un profumo Molto Fresco E A tratti Forse un po' In gente Credo sia Il Il legno E Sa di Di Floreale Certo Per forza c'è la ninfea bianca È Difficile da Descrivere come profumazione È molto particolare Non è il classico profumo Che si sente in giro Poi Queste Questi profumini Qui Di teso d'oriente Hanno sempre dei packaging Super belli Prima ne utilizzavo un altro Era di un'altra marca Sempre simile Con queste Dimensioni E questo packaging Però non era Di teso d'oriente Però non mi ricordo La profumazione Era un po' Orientaleggiante Come profumazione E anche il packaging Era molto bello Adesso lo uso L'ho messo in macchina Ogni tanto Do una spruzzata E Mi piace Perché Quando compri profumo Adesso Ho questo nuovo profumatore Per l'auto Per esempio Ma una volta aperto Dura Do Massimo Una settimana Invece Si ha un profumino In macchina Da tenere lì Che ogni tanto Do una spruzzata 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 Sui sedili È più piacevole Perché Dura di più Insomma Posso Spruzzarlo Quando mi pare La mia macchina È sempre profumata Non ho unghie Per fare tapping Sto cercando Di farle crescere Come ti ho già detto Nel mug Beh anche Creature Chissà Se ci riuscirò Oppure potrei Attaccare le finte Anche Più Svegliamo È perché Mi si rompo No Ma scusa Sicuramente Avrei fatto Di pelli Però posso fare Lo scratching Perché La decorazione Decorazione È in rilievo Quindi senti Mi si rompo E Donne Carlo Lui 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 vuoi sentire la profumazione? buono vero? molto buono fresca io sono stata cinque giorni senza sentire né odori né sapori e oggi è il primo giorno in cui sento un po' i profumi e quindi appena adesso devo andarmi a spruzzare il mio profumo ah e poi tra l'altro la Befana mi ha regalato la versione bagno schiuma di quella profumino lì però non è dentro il mio beauty è che ce l'avevo qui che è nuova devo ancora finire quello che indoggia e poi andrò a utilizzare quello lì è detergente intimo indoggione un altro il Saucela per chi fosse interessato questo qui è nuovo è piccolino giusto da inserire dentro il mio beauty e marca Fisioterm c'è scritto termo equilibrato micro biologicamente controllato classico d'azione protettiva senza parabeni antiodorante previene rossamenti irritazioni che è una pelle molto sensibile partintime delicate check gli uomini alcuni si lavano solo con l'acqua altri si lavano solo tipo si fanno vedere le immemme che usano solo lo shampoo per lavarsi tutti oppure solo il bagno schiuma per lavarsi anche i capelli invece io ho shampoo bagno schiuma e intimo solo per i genitali quindi quante pippe uno direbbe allora questo di profumazione cosa non mi ricordo più c'era scritto da qualche parte perché dovrebbe essere tipo qualcosa di floreale se non lo sbaglia mi ricordo comunque l'altro mio preferito saugela ma questo è una fucilata lo prendo in farmacia e tipo al gusto salvia al gusto abbia profumazione salvia il detergente intimo ne so appalate credo che tutti più o meno li usiamo quindi mi sembra un tabù così potrei anche fare tutto un video sugli assorbenti perché li ho provati di tutti i tipi quindi io non ho tabù nel parlare parlo di tutto senza problemi è youtube che mi censura comunque poi il mio spazzolino da denti ecco che da quando ho provato questa tipologia la ricompro sempre la prendo da lando e si chiama controllo della placca credo sia tradotto è medium perché quello soft troppo morbido quello hard troppo duro e mi sanguino le gengive e hanno tante colorazioni che sono belle l'avevo preso verde rosso coincidenza poi avevo preso un altro che era color otanio otanio qui qui un bel verde petrolio credo o viceversa adesso non mi ricordo era bellissimo quello poi ne ho uno anche ne ho avuto uno anche azzurro e rosso qui perché questo non è proprio rosso in realtà è un po' più sulla rosa rosso magenta invece l'altro va più rosso rosso che bello suono sì perché ha tante setole e mi trovo molto molto bene con questo spattipulce di spazzolino ne ho un altro della menta credo nero e verde ovviamente io ho sempre colori sobri aveva anche le setole nere e aveva le setole molto sottili e anche con quello mi trovo bene ma questo è il top per me pulisce tanto bene fa anche un bel suon smr un bel nessuno. Poi, il mio tidorante che è della Nivea, anti protect and care, senza alcol, la protezione 48 ore, e non, c'è scritto non irritante, e mi trovo molto bene con questi qui, i roll on, perché non mi fanno aloni sotto le ascelle e sui vestiti, sui vestiti principalmente sono gli aloni che di solito fanno, facevano quelli a spray, e poi questi qua, 48 ore, e anche se sudi, adesso non è il caso perché siamo in inverno, ma in estate quando si suda tanto, questi non ti fanno puzzare minimamente, cioè ti durano veramente un sacco, ti profumano le ascelle per un sacco di tempo, e non ti fanno neanche puzzare se i sudi, cioè è fantastico, non so dopo se mi verrà qualche malattia alla pelle, non ho idea, e non so neanche la composizione, se sia buona quella della Nivea, però appunto utilizzo attualmente già 4 o 5 anni, adesso non mi ricordo, per la precisione, non mi ricordo con precisione, però utilizzo in Nivea e questa tipologia appunto di tesoranti, ci sono varie packaging e varie profumazioni, le alterno, insomma, poi li compro spesso quando stanno in offerta, quindi magari sta una profumazione in offerta piuttosto che un'altra, e quindi praticamente li do il giro, li sto, li ho provati un po' tutti, hanno tutti un profumo più meno simile, ecco, è importante che sappiano di buono, ecco. Poi ho queste forbicine, questo paio di forbici, dà la punta molto molto poco arrotondata, perché sono decisamente a punta, sono quelle per tagliare, non so, le unghie, le pellicine, così così, o quello che ti pare, e mi citano molto bene, perché a volte le compri e non tagliano nulla, sembrano forbici giocattoli, invece queste sono anche carine, hanno tipo una fantasia a floreale, non si vede, sembrano solo bianche, vabbè, fa niente, hanno tipo dei fiorellini, pastello, lilla e rosa, pastel, molto molto, pastel, 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 anche un bel suono, un sml, noto, di carta, non si può. Come ultima cosa c'è questa della Maybelline, è una matita nera, è waterproof, è dermatologicamente testata, che ho comprato da poco, perché l'avevo finito, è un Cajal, infatti come puoi vedere ha la punta, come puoi vedere ha la punta perfettamente appuntita, perché è nuovissima, è bella morbida, Cajal è la tipologia di matita che preferisco appunto perché è più morbida delle altre, e io matita nera la uso adesso, che lavoro anche no, però una volta ne consumavo tante, 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 l'ultima che avevo era piccola così, e quindi adesso ne ho una nuova. basta, non ho più altro all'interno, diciamo, che sono le cose minimal base che utilizzo, di solito quando mi sposto da casa mi porto via queste cose e altre cose, nello zaino però le cose diciamo principali sono queste qui, anche perché nell'ultimo tenevo cose, cioè sono andata a fare il campion, togliendo le cose vecchie per metterle più di nuovo. e ho trovato proprio tipo una penna, cosa c'entra, cioè c'erano delle cose che dicono perché è qui dentro, quindi ora vado a riporre tutti questi oggetti all'interno, poi ti saluto creatura, non mi ricordo l'ordine però, vado a caso. c'erano delle forbiccine, poi mi pare che ci fosse stato questo, non c'erano questo, e infine c'era questo, non c'erano spesso. il piccolo tapping leggero, spero che questo video ti abbia fatto rilassare, io ti auguro buonanotte, 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 buonanotte. ciao creatura ciao creatura ciao ciao ciao